Buonasera a tutti, siamo al Cenacolo San Marco in compagnia di Folco Napolini. Ciao Folco, buonasera. Buonasera a voi e grazie. Grazie a te innanzitutto. Allora, noi siamo qui perché all'interno del Terni Film Festival, che quest'anno si chiamerà All of Us, organizzato dall'ISTES, quindi nell'ambito delle manifestazioni popoli e religioni, Folco presenterà un suo cortometraggio che si chiama We Are the Other. Folco, vorrei che tu un pochino ci parlassi di questo tuo lavoro. Beh, è un lavoro che fa un po' il verso, diciamo, alla giornata di apertura del Festival, perché è dedicato appunto alle donne. Ho cercato, insieme al professor Paolo Cicchini, che ha curato i testi, a mia figlia Chiara, diciamo, che ha rifinito un pochino l'opera, e con una grande attrice, che è Katia Nani, e una giovane attrice, che è un po', diciamo, un po' la mia musa oramai da un po' di anni, perché ha iniziato con me, che aveva 12 anni, e oggi ne ha 18, e si chiama Riannon Allen, che viene dall'americana, insomma, e quindi è cresciuta, sta crescendo qui in Italia, e abbiamo avuto ottime soddisfazioni. E quindi, cosa abbiamo voluto dire? Abbiamo voluto parlare di questo tema molto attuale, e soprattutto anche molto impegnativo, che è il femminicidio, insomma, il dramma che stiamo vivendo anche da un punto di vista culturale, sociale, etico, morale, come vogliamo usare tutti gli aggettivi possibili e immaginari, in un modo diverso, utilizzando l'arte, utilizzando la bellezza delle parole, la profondità delle parole, e soprattutto la psicologia dell'essere umano donna. La psicologia significa che rimane questo segno indelibile per tutta la vita, però la donna non cade nel vittimismo, ma reagisce perché la donna è forte, perché la donna è capace di superare anche drammi del genere, e tirando fuori quella grande profondità che è la bellezza dell'anima di una donna, perché la donna non va vista esclusivamente da un punto di vista estetico. la donna come essere umano ha un valore enorme, ha un valore enorme che non lo dico io, ma lo dice la nascita dell'umanità. Il ruolo della donna è fondamentale, come lo deve essere nella vita, paritetico, senza quote o non quote, ma di diritto, e questa cosa è fondamentale perché lì vedremo questa donna da ragazzina e poi la vediamo da vecchia. Come ha saputo reagire e cosa ci comunica attraverso la bellezza delle parole e soprattutto la grande luce della sua anima. Com'è stato per te da uomo fare, curare la regia di questo cortometraggio che parla soprattutto di psicologia femminile e di una vicenda, di un momento storico anche in cui le donne la fanno da padrone, da protagonista soprattutto? Beh, è stato realizzato a quattro mani da due uomini. Quindi due uomini che hanno dimostrato di avere una grande sensibilità, di avere una grande conoscenza anche dell'essere umano nel suo complesso e poi nella fase di realizzazione del corto è emersa la grande bravura di queste due figure femminili che hanno saputo interpretare alla grande proprio i dieci minuti della durata di un sentimento perché io lo chiamo così perché vi sembrerà assurdo ma anche dopo tanti anni di esperienza e di lavoro mentre montavamo diciamo ci siamo tutti emozionati e lo provo ancora adesso questa questa sensazione di emozione perché chi ha conosciuto il dolore sa cosa significa perché il dolore non è solamente uno il dolore ha un insieme di situazioni di cose che possono capitare che possono capitarci e la cosa bella è come l'essere umano è così grande così immenso che ha quella forza di riuscire a trasformare il dolore in amore ecco questo abbiamo qui San Valentino alle mie spalle e quindi è uno dei messaggi più sublimi che possiamo dare anche se capiamo che questo non è che risolve il problema insomma però ci abbiamo provato e l'abbiamo fatto anche attraverso grandi opere utilizzando l'immagine della pubertà abbiamo ricostruito l'immagine della pubertà di Munch e finisce appunto con il cielo stellato di Kiefer Allora Folco te non sei nuovo a questa manifestazione quante volte hai partecipato? Beh questa dovrebbe essere la quarta come partecipazione la prima fuori concorso no la seconda fuori concorso e e quindi in amicizia proprio con il festival diciamo infatti anche sabato diciamo cioè domani quando inizieranno inizierà il festival ci saranno presenti anche miei amici che faranno altre cose da Edoardo De Angelis a Gianni Ferreri che poi vedrete insomma ecco è il mio mondo quindi insomma assolutamente come dicevamo prima prima dell'intervista purtroppo te che sei una persona che ha dato con la sua arte con la tua arte tantissimo a questa città a volte hai non molto riscontro soprattutto dai giovani allora io vorrei che tu come se idealmente parlassi con un giovane che non ti conosce gli spiegassi cosa hai dato a questa città cosa hai fatto e chi sei beh cosa ho dato non è bello cosa ho ricevuto sì cosa ho ricevuto da questa città tantissimo perché io non sono Dernano sono nato a Foligno però sin da ragazzino sono venuto a Terni oramai mi chiamano tutti Luternano in giro diciamo per l'Italia e ho cercato sempre di dare un di dare un messaggio di crescita culturale di crescita culturale e cercando di essere contemporaneo non sempre viene bene perché poi ci sono altri fattori che generano questa cosa mi trovo molto bene con i giovani perché in ogni mio impegno soprattutto anche quello sociale perché sono impegnato anche su questo fronte trovo riscontro di adesione di partecipazione e di come posso dire anche di complicità e anche di usare lo stesso linguaggio lo stesso atteggiamento lo stesso modo da un punto di vista artistico è un pochino più complicato perché sono una figura un pochino ermetica quindi quando esprimo il mio sentimento attraverso l'arte devo avere un pubblico particolare e quindi diciamo che sono un po' più di nicchia e non diciamo popolare come sol dirsi quindi questo è il prezzo che si paga stando un pochino sulla qualità diciamo per qualità intendo ripeto cose particolari specifiche insomma ecco magari che possono sembrare antiche possono sembrare invece cerco sempre di valorizzare quelli che sono i valori che i giovani soprattutto non devono mai perdere come in questo caso quando parliamo vediamo di questa cosa vediamo oggi gli adolescenti ho fatto anche un corto che ha partecipato al festival popoli e religioni io un adolescente proprio per capire la psiche di questi giovani che oggi vedete che stanno reagendo anche in malo modo diciamo a quelle che sono gli atteggiamenti della vita quotidiana no vediamo i bulli vediamo queste forme di bullismo così via scontri fisici una volta erano sull'idologia oggi sono sul nulla insomma quindi questo mi fa pensare mi fa preoccupare ma nello stesso tempo potrebbe darsi che è in atto un cambiamento e tutti i cambiamenti vanno osservati vanno ascoltati dopodiché cercare di prendere l'antitodo esatto e giusto per migliorare diciamo questo stato sociale benissimo che progetti futuri hai? beh un progetto che si doveva fare a settembre poi per motivi tecnici è stato spostato io il 18 dicembre farò il premio mediterraneo a Tropea in Calabria e oramai sono il regista proprio di quell'evento quindi che è partito oramai parecchi anni fa e quindi dopo lo stop e la pausa del covid queste cose così adesso riprendiamo e riprendiamo dalla perla del Mediterraneo che è Tropea quindi per me è una bellissima una bellissima cosa poter essere lì cercherò di portare perché sto facendo del tutto per convincerla una nostra concittadina che è una grande pianista che è Cristiana Pecoraro e mi auguro che riusciamo a portare in alto e in giro per l'Italia il nome di Terni di San Valentino e speriamo noi Ternani ce lo auguriamo tutti grazie grazie di cuore allora Folco ti ringrazio ti faccio un grande in bocca al lupo ricordiamo l'appuntamento con il tuo cortometraggio We are the other domani sera il 12 quindi sabato 12 novembre alle ore 21 al Cityplex Politeama Lucioli e quindi noi ci vedremo lì e quindi un grande in bocca al lupo ancora e grazie per queste quattro chiacchiere grazie ci vediamo su Red Carpet come suol dirsi ci faremo delle foto e poi lunga vita al lupo grazie